Per evitare di finire in zona rossa, come ad alcune province, compresa la limitrofa provincia di Siene è accaduto, è evidente che è una scelta, come ha detto il sindaco, per evitare di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Noi abbiamo il dovere di fare tutte le azioni di prevenzione e di protezione per proteggere la città da un ritorno in zona rossa e semmai anche la provincia, essendo la città un terzo complessivamente della provincia di Arezzo. I contagi aumentano in maniera vertiginosa ad Arezzo e allora il sindaco Alessandro Ghinelli decide la chiusura delle scuole per due settimane a partire da lunedì 1 marzo. Fra sette giorni ci sarà comunque di nuovo un controllo, un confronto con la ASL sui dati. Per il momento rimangono aperte nidi e materne. La provincia di Arezzo è una provincia che in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane ha visto un'impennata significativa del virus e della sua circolazione. La città di Arezzo nell'ultima settimana ha avuto un incremento dell'84% dei contagiati, quindi è evidente che noi dobbiamo calmerare, bloccare, fermare, congelare tutte quelle realtà che sono direttamente o indirettamente moltiplicatori della diffusione del virus. E quindi in questo caso era evidente che per evitare di finire in zona rossa, come ad alcune province, compresa la limitrofa provincia di Siene è accaduto, è evidente che è una scelta, come ha detto il sindaco, per evitare di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Noi abbiamo il dovere di fare tutte le azioni di prevenzione e di protezione per proteggere la città da un ritorno in zona rossa e semmai anche la provincia, essendo la città un terzo complessivamente della provincia di Arezzo. Se fra sette giorni i dati fossero migliori, è possibile una rientra a scuola o l'ordinanza andrà avanti? L'ordinanza è di 14 giorni perché il tempo scientifico reale di valutazione sono 14 giorni. La prudenza e l'intelligenza ci dice che al settimo giorno di questa ordinanza faremo una doppia valutazione. Una dedicata alle scuole che sono chiuse, e cioè elementari, medie e scuole superiori. L'altra dedicata contemporaneamente alle scuole che in questo momento sono aperte, perché non hanno avuto un impatto tale da chiedere la possibilità di chiusura. E a quel punto tireremo le somme anche con il Consiglio della Asle, che è il soggetto deputato ad aiutarci a leggere i dati. Cioè la scelta qui non è né una scelta di cuore né una scelta di pancia, è una scelta di testa che dobbiamo fare noi come amministratori nella protezione della città, ma con il supporto forte di chi questi dati li sa leggere in maniera precisa, che è la Asle che ovviamente ci sta accanto a noi e agli altri comuni proprio per orientarci nelle scelte che spettano a noi ma che dobbiamo prendere su dati certi.